Un indicatore che ci dice che ancora la situazione di Bitcoin non è né in eccesso di rialzo né in un eccesso del livello di questa bull run che andremo a vedere oggi e poi il grafico e anzi i grafici perché saranno doppi che riguardano il rapporto tra Ethereum e Bitcoin. Analizziamo tutto quello che è la situazione ciclica di Bitcoin per capire perché Ethereum ancora stenta ragazzi e stenta tantissimo tant'è vero che sul grafico di rapporto di cambio Ethereum-Bitcoin siamo andati a fare un minimo in close della settimana proprio in questa settimana qui un minimo che tra le altre cose andrebbe a rompere anche questo livello e sarebbe indicativo di una continuazione di questo trend al ribasso. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video settimane di barra di congestione di trading range per quanto riguarda Bitcoin ma anche settimane in cui possiamo fare un briefing su quelli che sono dei dati che secondo me molto interessanti cioè dei dati che riguardano anche altri mercati per fare delle analisi che per esempio possono darci delle indicazioni un po' più generaliste sulla situazione attuale. situazione attuale che potrebbe incorrere nelle prossime settimane in qualche giornata di riflessione ma che non dovrebbe in nessun modo andare ad intaccare quello che è il trend del 2024 anzi teoricamente dovrebbero essere delle occasioni di buy ragazzi. il problema di fondo di questo ne abbiamo parlato anche nei precedenti video è che quando queste fantomatiche occasioni di buy sono così chiare così evidenti i motivi diciamo il mercato solitamente si muove in due modi differenti cioè o non le fa queste occasioni di buy o semplicemente le fa in maniera estremamente più profonda e quindi in sostanza non recupera poi tanto facilmente dopo aver fatto nuovi minimi. vabbè lancio una moneta poi andiamo a vedere ethereum bitcoin l'indicatore anzi facciamo così vediamo prima l'indicatore che volevo farvi vedere che ci dice bitcoin non è in eccesso è in una fase mediana quindi c'è tanto spazio ancora per salire nella fase di burnale poi vediamo ethereum bitcoin e il grafico di eth lancio della moneta lancio della moneta un po' così e si scende. la moneta dice che si scende ragazzi e vediamo vediamo sarà fatto così allora vi faccio vedere intatto questo indicatore ve lo spiego brevemente l'abbiamo analizzato veramente tanti anni fa però per chi è nuovo anche sul canale magari non ha visto il video questo è il meyer multiplo che è in pratica un indicatore questo sottostante ve lo faccio vedere qui che è più è più chiaro. il multiplo di meyer è un indicatore che in pratica segna la distanza tra i prezzi in cross di bitcoin rispetto alla sua media mobili a 200 periodi. e questo indicatore in pratica serve a una cosa serve a dirci che quando i prezzi sono molto distanti dalla media mobili a 200 periodi in senso positivo siamo in eccesso di rialzo quando lo sono in senso negativo cioè sono sotto la media mobili a 200 periodi in maniera molto spropositata che quindi scendono moltissimo siamo in eccesso di ribasso e quando invece siamo in una situazione mediana allora è tutto diciamo in fase mediana ed è stato anche utilizzato con delle fasce di pricing perché le fasce di pricing ve le indico qui per esempio below 1 in pratica viene utilizzato dicendo che se sotto 1 quindi se ci sono questi histogrammi verdi che vedete qui allora è una buy è un buy se invece between tra 1 e 2.4 è in barra di congestione in range quindi non è né negativo né positivo above 2.4 siamo in eccesso attenzione perché nel 2020 above 2.4 non ci siamo mai andati quindi questa cosa qui significa una sola cosa che il multiplo di mayer non serve più a niente come indicatore no non è così un indicatore molto utile se quello che serve è comprendere che i dati e i parametri che in questo caso sono stati utilizzati per la storicità di bitcoin in questo caso appunto la bov 2.4 non sono più validi questo è il discorso cioè semplicemente dobbiamo ragionare abbassando quel livello del multiplo di mayer e indicando un livello che sia più abbordabile perché le precedenti oscillazioni di bitcoin erano molto più volatili molto più impulsive e quindi il multiplo di mayer si distanziava tanto ma negli ultimi anni e per la modifica del mercato per il fatto che adesso capitalizza di più per il fatto che adesso ci sono gli etf e quant'altro è meno volatile quindi il multiplo di mayer ci indicherà eccesso non sopra il 2.4 ma sostanzialmente un po' più in basso già è possibile vedere per esempio in questa zona qui che il multiplo arrivò nel dicembre 2017 a 2.3 e nel marzo gennaio marzo del 2021 arrivò a 2.65 in sostanza secondo me sopra i 2.1 iniziamo ad essere in eccesso al momento il multiplo di mayer segna 1.54 per aprile giugno 2024 possiamo vedere anche in quest'altra fascia che si vede anche un po' meglio questa zona qui per esempio è l'indicazione del 2.4 qui potremmo andare a disegnare per esempio una nostra semplice linea intorno a 2 o inferiori e renderci conto che è molto più valida questa views cioè una views dove magari in queste zone abbiamo avuto un eccesso di rialzo anche nel 2019 in giugno del 2019 quando ci fu quell'hype prima del crash per la pandemia e poi vedete l'ultima bull run in questo contesto secondo me è più significativo quindi andare a misurare questo indicatore sopra il 2 o insomma intorno a quell'aria quindi il multiplo di mayer è ancora valido ma ci dà un'indicazione siamo a 1.53 qualcosa non siamo in eccesso questo significa che la bull run se qualora dovesse proseguire come speriamo e come tutti i dati ci stanno indicando per il 2024 proseguirà con tranquillità perché il multiplo di mayer non è neanche lontanamente vicino al numero di massimo tra le altre cose per far a riassorbire anche questi accessi proprio perché comunque siamo magari a 1.53 è necessario anche delle barre di congestione quindi sarebbero necessari anche delle fasi in cui bitcoin fa queste oscillazioni su e giù come sta facendo senza muoversi in maniera importante quindi una indicazione interessante e molto valida secondo me perché questa è un'indicazione che si basa su dati di lungo periodo la media mobile a 200 periodi è una media annuale no? Di annuale insomma ragiona su 1-2 anni quindi lungo periodo in questo caso per le cripto e in questo caso secondo me è molto interessante comprendere anche il riadattamento del parametro per avere dei metri di giudizio e dei dati che siano validati che siano oggettivi rispetto all'attuale situazione di mercato quindi questa cosa l'abbiamo chiarita andiamo a vedere a questo punto il grafico che volevo farvi vedere del doppio grafico in rapporto ethereum sopra bitcoin sotto dove siamo in questo momento che cosa sta succedendo? Allora una duplicità a livello ciclico che è essenziale perché intanto hanno due strutture cicliche differenti bitcoin rispetto ad eth e in particolar modo eth molto più debole guardate non è riuscito neanche a fare i massimi precedenti bitcoin molto più forte perché ha superato i massimi precedenti anche se di poco insomma è ancora lì diciamo che un vero breakout non c'è mai stato però in linea di massima questa indicazione ci dà il peso di forza delle due cripto però ethereum a livello ciclico ha una struttura completamente diversa da bitcoin perché a livello ciclico bitcoin ha iniziato una struttura annuale in questo punto e poi ha fatto un ciclo particolare un annuale corto a 295 giorni che ha configurato questo movimento come un primo movimento di un biannuale a forma ternaria attenzione perché i biannuali a forma ternaria sono molto complessi molto particolari quindi possono comporsi anche di tanti cicli quindi è molto complessa la situazione da andarlo poi a sviscerare però è complessa da andare a fare i calcoli ma non difficile da interpretare perché poi alla fine a livello operativo quello che ci serve il significato è sempre lo stesso cambia poco quindi esercizi diritto diciamo così fatto sta che mentre bitcoin ha avuto un annuale corto appunto con un movimento anomalo ethereum no ethereum ha configurato un annuale normale 483 giorni dopodiché è iniziato una nuova struttura annuale allora andiamo a vedere quello che sta facendo la regina delle cripto e in che fase è in questo momento sto utilizzando dei time frame un po' più lunghetti comunque possiamo anche vederli per esempio in questo caso sul daily classico per andare a fare un po' più il punto della situazione questa struttura di eth è un ciclo trimestrale ragazzi che sarebbe un ciclo composto da tre cicli mensili e che solitamente dura tra i 70 e i 90 giorni in media poi a volte cede un pochettino eccetera ma non è rilevante questa cosa qui eth ha chiuso un movimento importante da 57 giorni se non che sta allungando perché teoricamente dovrebbe appunto chiudere questo movimento trimestrale e se lo fa inevitabilmente lo fa al di sotto di questo minimo ora c'è possibilità per eth di non scendere sotto il minimo quello che ha fatto a marzo del 2024 cioè questo minimo qui del 20 marzo c'è perché alla fine a livello di struttura ciclica anche un doppio minimo e quasi c'è insomma basta fare una cosa del genere va bene anche per chiudere questi cicli soprattutto nei settori delle cripto che sono molto molto volatili che hanno delle strutture che sono facilmente manipolabili insomma criptovalute anche piccole insomma alla fine eth è una bella cripto ma comunque non capitalizza quanto bitcoin quindi è facile anche da muovere tutto sommato ecco diciamo così sempre in mercato cripto però si può agire anche in questo modo perciò anche chiusure di livello ciclico così un po' sporche ci possono stare ma lascerebbero sempre il dubbio la soluzione più classica e più scontata è che TH scenda al di sotto di questo livello di minimo che più o meno è in zona 3059 in sostanza vado a fare un touch dei 3000 dollari una cosa del genere fatta una cosa del genere teoricamente questo ciclo trimestrale sarebbe concluso e a quel punto potrebbe tentare una nuova strada al rialzo c'è però un ma c'è un ma perché perché in realtà non è questo trimestrale di TH è anche il secondo trimestrale del ciclo annuale quindi è anche la trimestrale che va a concludere il cosiddetto ciclo semestrale che è molto più imponente il semestrale ragazzi il semestrale se lo fa standard è un ciclo che può durare anche anche 220 giorni anche di più 240 nel caso di TH perciò cosa significa che se io vado ad allungare questa struttura ciclica e mi porto a 240 giorni è un estremo però si può fare una cosa del genere arriveremo a giugno del 2024 ciò significa in pratica che questi cicli trimestrali sarebbero sdoppiati cioè in pratica noi qui avremo un ciclo trimestrale in chiusura tra poco o in questa fascia qui dopodiché l'inizio di un nuovo movimento per poi chiudere definitivamente la questione in pratica questa struttura ci lascia un po' il dubbio sulla prossima fase di risalita dei prezzi anche se fosse e ci fosse una fase di rimbalzo dei prezzi dovremmo stare molto molto attenti perché anche su TH si potrebbe andare a configurare il cosiddetto rimbalzo ma poi nuovamente la fase ribassista a chiusura del semestrale che non cambierebbe ripeto tutto quello che poi sono le aspettative del anno 2024 perché io continuo ad avere un'aspettativa positiva dell'anno 2024 per il settore dell'ecrypto ma lascerebbe comunque una bella fase di pausa perché da aprile ce ne andremo alla fine a giugno con sali e scendi ma poi un nulla di fatto sostanzialmente quindi primo step da andare a guardare su TH è se questo ciclo trimestrale ha chiuso qui o meno perché ragazzi perché se ha chiuso qui cioè se non andiamo a rompere il minimo velocemente questo è potremmo anche tentare vedete di essere in un nuovo trimestrale più corto e avvicinarci alla fine a un semestrale da 225-230 giorni anche questa view è valida attenzione proprio a questo quindi eventuali fasi di minimo e di breakout di questo livello di TH sono da attendere anche nelle prossime settimane prima lo fa meglio è perché se lo fa poi dopo tanto tempo se lo fa ad esempio verso il 20 di aprile è negativo perché indicherebbe che lì è iniziato sicuramente un nuovo trimestrale ed è già virato poi al ribasso quindi significa che si scende o lateralizza fino a giugno questo è il discorso maggio insomma giugno e all'attuale fase quindi come vedete su Ethereum non è per niente rosa al momento quindi solo cambi di direzione importanti e superamento almeno dei 3.700-3.800 dollari sancirebbero l'annullamento di questa view tendenzialmente ribassista e quindi bisognerebbe avere una fase che fa così e ma attenzione perché poi c'è il secondo livello di vincolo quindi abbiamo due livelli di resistenza notevoli su ETH uno è appunto i 3.7-3.8 e l'altro è questa zona qui dei 4.100-4.200 solo il primo superamento ma poi ha subito un livello di resistenza sancisce diciamo l'uscita da questa struttura ma non elimina il rischio che qui appunto siamo in un nuovo trimestrale che poi può fare tranquillamente questa cosa cioè il superamento di questo livello elimina la possibilità che bisogna chiudere il precedente trimestrale cioè lì sancisce che questo è stato chiuso qui ma non ci pone poi non ci elimina il rischio che questa attuale magari trimestrale poi possa fare una roba del genere quindi solo il superamento dell'altro livello indica che è molto difficile che avvenga poi uno scenario ribassista quindi sostanzialmente primo livello importante e poi secondo livello importante per decretare una cosa del genere se non lo fa la soluzione migliore è che o sta chiudendo un trimestrale in questa fase oppure siamo in questa zona come vedete fatta, costruita in questo modo andiamo a vedere un raffronto con Bitcoin per vedere se effettivamente anche Bitcoin potrebbe assumere la stessa struttura e si perché noi sappiamo bene che anche Ethereum e Bitcoin sono molto collegati tra di loro quindi a volte si sincronizzano dove va uno in pratica va l'altro cioè dove va Bitcoin va ETH a dire la verità esiste una correlazione molto forte tra Ethereum e Bitcoin la più forte del mercato cripto ce l'hanno Ethereum e Bitcoin Sablecoin ovviamente a parte che sono correlate con il dollaro ed è intorno al 94-95% di correlazione ma non significa che il trend di Bitcoin deve essere identico ragazzi perché la correlazione è uno spostamento identico ma non in termini di percentuali cioè non è che noi abbiamo il rendimento uguale di Ethereum e il rendimento uguale di Bitcoin perché sono correlati non è così infatti la Ethereum ragiona in maniera a una forza nativa inferiore a Bitcoin quindi una cosa è la correlazione si muovono in sincrono questo significa una cosa è che uno sale di più poi e l'altro sale di meno e uno scende di più e l'altro scende di meno quindi sostanzialmente quella è la forza relativa e Bitcoin ha più forza relativa rispetto a Ethereum quindi sono correlati al 94-95% ma con una forza relativa migliore di Bitcoin rispetto ad ETH la struttura di Bitcoin essenzialmente è molto diversa in questo caso sembra identica ma in realtà non è così perché il ciclo attuale di Ethereum è più spento questo qui che ha ripreso è un ciclo di rimbalzo ma è più spento di quello di Bitcoin che ancora una volta in questo contesto è riuscito vedete a salire molto prima di fare questa fase down è anche vero che non è riuscito a superare i precedenti massimi però sembra un ciclo più forte tra un po' andremo a chiudere il mensile adesso siamo a 14 giorni quindi se il mensile di Bitcoin non va a scendere al di sotto dei 60.000 dollari 61-60.000 dollari vuol dire che questo ciclo appartiene a un nuovo trimestrale di Bitcoin ed è interessante perché? perché tutto quello che abbiamo detto su ETH lo scopriamo da Bitcoin in questo caso perché è difficile che Ethereum vada poi da solo da questo punto di vista perciò se questo ciclo attuale appartiene a un nuovo trimestrale allora anche Ethereum è creato in quel modo e quindi qui abbiamo una struttura da 60 giorni circa che probabilmente sta andando a completare poi un altro trimestrale messo qui che dovrebbe chiudere i giochi di un eventuale ciclo insomma più lungo quindi in questo caso anche facendo un doppio trimestrale intorno ai 50-58 anche così ce ne andremo vedete verso la fine di maggio è possibile che questo avvenga avremo quindi un semestrale da 250 giorni né perché in realtà Bitcoin in questo contesto potrebbe non fare proprio il semestrale bensì costruire un altro annuale come questo che avete visto cioè cortissimo il secondo movimento e quindi mandare tutti tutto quanto verso maggio-giugno e quindi concludere in pratica questo movimento verso maggio-giugno morale della favola da questa struttura noi abbiamo un dato importantissimo cioè quello che era la risposta alla prima fase del del video che vi ho detto cioè quando tutti si aspettano un ribasso non avviene spesso oppure oppure se avviene poi non è così debole come vuole sembrare cioè il ribasso inizia ad essere più consistente e più duraturo e quindi nel momento in cui avviene una cosa del genere tutti magari provano buy the dip perché poi tanto rimbalza e questo poi tanto rimbalza non arriva per mesi mesi e mesi o addirittura il prezzo scende di più di quello che era l'aspettativa dei prezzi di solito il mercato quando vuole creare un diversivo vuole scioccare i trader gli speculatori gli investitori eccetera fa queste cosette ragazzi ok e quindi morale della favola questa view ciclica che vi ho detto ce ne sono due adesso nei prossimi giorni si svilupperanno e ci sarà molto e sarà molto facile vedere tra le righe di queste view però questa seconda che vi ho detto è quella da tenere sotto stretta osservazione perché se così fosse lo scopriamo tra pochi giorni ce ne andiamo a maggio giugno con una fase di laterale ribassista e non ce n'è per nessuno né TH né Bitcoin a quel punto e dobbiamo tenerlo in considerazione quindi non fate buy the dip su ribassi diciamo così senza ragionare perché c'è questa possibilità e va valutata quindi ok la parte trading attenzionate invece magari dei buy the dip se li volete fare volete entrare perché potrebbe esserci una fase molto più prolungata di questa struttura ribassista ovviamente il mercato quando invertirà il trend ci darà la risposta però noi lì diciamo andate lì diciamo anche a fare dei buy si possono fare anche inversioni di trend non a forza in buy the dip io sono quelli che preferisco dire la verità eccetera quindi questo ciclo guardate quanto è importante e come sancisce anche una sincronia tra Ethereum e Bitcoin cioè questo ciclino qui ragazzi se già Ethereum per esempio rompe il minimo e lo fa in questo ciclo ma allora ci porta magari alla possibilità che stiamo nella prima view cioè di un trimestrale che sta chiudendo se invece non ce la fa e Bitcoin nemmeno lo segue quindi nei prossimi giorni non vanno a rompere questo minimo bensì continuano a scillare o riprendono forza pericoloso perché potremmo essere in un nuovo trimestrale debole in questo caso che potrebbe tranquillamente fare il giochino così per poi andare a chiudere la questione in questo modo ad entrambe le parti questa è la view più pericolosa che dobbiamo valutare in tutti i prossimi mesi fino a giugno 2024 lasciatemi un mi piace per questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ovviamente lasciatemi un super mi piace perché questi dati ragazzi è come leggere un libro aperto e sapere dove sono la mappa del tesoro si diceva una volta io dove sono che cosa sta succedendo vi facilita molto la parte operativa perché avete chiarezza di quelli che sono gli scenari poi dovete sempre conoscere le tecniche assolutamente di trading per agire formazione 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 perché vedete questi rassi temporali sono la chiave per ottenere poi il successo nell'anno 2024 nella seconda parte già la prima parte è stata molto importante ok non è facile ve lo dico già da subito però sicuramente è molto più facile se siete formati e sicuramente avete molte più chance se siete formati va bene ciao a tutti e buon weekend ciao a tutti